Rayman! Guarda cosa ho trovato! Non sono di solipredi! Clavox, come va? Clavox, rispondimi! Ehi, ho molta paura, eh? Oh, i miei occhiali! Ciao a tutti ragazzi, sono Gabri Costa. Questo è il terzo atto del capitolo di Rayman 3, la torre dell'Eftis. Siamo su questo veicolo. Per usare il turbo premete X o quadrato. E per scivolare di lato premete R2. C'è la banda di André! Per sparare tenete premuto quadrato o X, capite ragazzi? Questo è un bellissimo cannone mitragliatore. Si può fare una bella mitragliata. Quando uccidete la banda di André aumenta il punteggio e poi passate in modalità combo. Si fa parecchi punti. Ricordatevi che finalmente abbiamo ritrovato il nostro amico Globox. Questo veicolo Globox l'ha trovato nel quartier generale degli Udlum. Ma avete visto che ingranaggi ragazzi? Questa strada ci porta da Reflux e André e noi dobbiamo andare a fermarli. Cercate di non schiantare nelle pareti, sennò perdete la salute. Ritorna la banda di André ragazzi! Ritorna la banda di André! Ci servirà anche nello scontro finale che noi faremo in questo capitolo. Avete visto? All'inizio Globox ci ha fatto vedere questo veicolo quando ha iniziato a gridare guarda cosa ho trovato e poi non sapeva fermarlo perché non sa dove sono i freni. Avete visto? Stiamo uccidendo la banda di André. Cerchiamo di stare attenti a non andare in quell'acido ragazzi. Avete visto? Ci sono un sacco di pesci morti, tutte le rische. Che schifo! Non finisce più questa banda di André. Non fatevi colpire. André, è il momento mio! Non so che mi senti. Smetti di fare del male. Torni su perretta mia! Ok, proseguiamo e andiamo avanti. Dobbiamo finire questo terzo atto. Ragazzi, avete visto quanti bellissimi ingranaggi ci sono? Ci sono parecchi ingranaggi. Non facciamoci prendere da quelle cose con i denti a guzzi. Sennò ci fanno perdere la nostra barra e la salute. Questo sistema sembra tecnico. Mentre il tempo. Non ti riferisco. Grazie del passaggio, Globox. Ora noi possiamo proseguire da soli. André, siamo qui! Ora possiamo fermare Reflux e André una volta per tutte. Bene, il video giunge al termine ragazzi. Mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Grazie del passaggio, Globox. Proseguiremo da soli. Vediamo di fare in fretta.